Siamo qui al passo del Telegrafo, sopra Spezia, per questa importante giornata di integrazione sociale. Davvero tanti volontari da tutta Italia, oggi è una festa, una festa di un'attività che cresce sempre in termini di impegno, di professionalità dentro il CAI e soprattutto di numeri. Su cui lavoriamo anche tutto l'anno, non solo in questa giornata, facendo formazione per i volontari, organizzando attività sui nostri sentieri, sulle nostre montagne. Ritemiamo che sia importante che anche i soci più giovani partecipino a queste attività, soprattutto nelle sezioni. Abbiamo poi estrapolato una pubblicazione, un libro, che crediamo sia un unicome in questo momento, perché contiene non solo i sentieri adattati, un elenco di sentieri adattati, ma anche un elenco di strutture recettive adatte alla diversa abilità. Nel CAI nessuno resta indietro, è una grandissima emozione andare in montagna, ma a maggior ragione è una grandissima emozione andare in montagna con tutto un gruppo di persone che forse da sole avrebbero qualche fragilità.